Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo video vi presentiamo un microscopio stereoscopico in grandimenti 20x e 40x. Questo strumento è utilizzato per osservare minerali, fossili, pietre, fiori e foglie. È utilizzato in elettronica per microsaldature, nel controllo qualità e micromeccanica. Lo strumento è fornito di doppia illuminazione, sia incidente che per trasparenza. Può ruotare di 180 gradi permettendo di osservare anche oggetti molto voluminosi, come ad esempio delle tele oppure dei vasi. Qui stiamo osservando della carta vetrata. Vediamo la granulometria della carta vetrata. Grazie per l'attenzione e se volete potete iscrivervi al nostro canale su YouTube. Grazie e vi aspettiamo per un prossimo nostro video. A presto! Grazie a tutti!